quando è una giornata normalissima ma succede questo quando il prof mi chiama alle interrogazioni io faccio no prof non posso venire perché non sono preparato e quello fa no dai vieni proviamo insieme fidati e tutta la classe si dai vai ma si dà giù lì te no perché sacci niente non ho giù studiato ho capito sacci mangiate le materie stiamo facendo che facciamo me in gaffa Dio tanto sai che esisto questa è una dichiarazione d'amore basta mi ama ci sposiamo mi sento male l'ho sempre saputo l'ho sempre saputo che mi amavi cassa vuoi tu prendere Mariano Di Vaglio come tuo legittimo sposo si la voglia la voglia mamma mi sposo con Mariano Di Vaglio grazie Dio basta contatto a Enzo Miccio da Vaglio non è mai mai nonna Mariano Di Vaglio mi ama nonna ma come ha solo rifatto un mio audio se non mi infrange dei sogni ti ho detto che mi ama sono già incinta e il figlio è tuo vuoi fare il mio testimone di notte hai capito che sai che hai visto ci sposiamo ci sposiamo ma tu porti le fedi mi ama capisci che mi ama mi ama ciao 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 Grazie a tutti.